buongiorno e benvenuti su dannyreef.com oggi parliamo del ciclo dell'azoto negli acquari infatti il ciclo dell'azoto c'è sia nell'acquario marino che ovviamente nell'acquario di acqua dolce a cosa serve il ciclo dell'azoto? il ciclo dell'azoto serve per far proliferare la vita in pratica è tutto quell'insieme di processi che avvengono all'interno dell'acquario perché oggi parliamo dell'acquario ma questo avviene anche in natura e che permette la formazione dei composti di scarto che provengono dalla decomposizione delle sostanze e dalle escrezioni da parte degli animali di essere processate tornare alla forma primigenia che era quella dell'azoto e dell'ossigeno e poi rientrare in circolo perché ne parliamo ne parliamo perché oggi abbiamo questo prodotto da farvi vedere che si chiama Amtraklin Procalt sono dei batteri che servono per far iniziare un ciclo dell'azoto all'interno di un acquario oppure di mantenere un ciclo dell'azoto già preesistente oppure di rivitalizzare un ciclo dell'azoto che è stato in qualche modo diciamo così annegato dai propri nutrienti ma prima di parlare di questo prodotto parliamo proprio di che cos'è il ciclo dell'azoto abbiamo già detto che partiamo dai materiali in decomposizione ovvero ogni sostanza vegetale ogni sostanza animale crea dei composti azotati quelli che noi conosciamo meglio sotto il nome di ammoniaca o di ione ammonio quindi l'ammoniaca è il composto in cui troviamo lo ione ammonio ricordiamo le formule l'ammoniaca NH3 lo ione ammonio NH4 più perché più se vi ricordate dalla chimica vuol dire che ha una carica positiva inoltre questo azoto che viene chiamato azoto ammoniacale deriva anche dagli scarti dei in questo caso dei pesci quindi l'urea piuttosto che le feci tutte queste cose portano a formare l'ammoniaca o l'ione ammonio questo non avviene per caso ma avviene perché esistono dei batteri che vengono chiamati batteri ammonificanti cioè sono che i batteri che partono dalle sostanze e che ci portano ammoniaca e ione ammonio noi con Amtra Clean Procalt ci inseriamo proprio in questo punto perché perché con questo prodotto che è costituito da batteri vivi soprattutto del ceppo nitrosomonas e nitrobacter serve per andare a demolire l'azoto ammoniacale che abbiamo appena visto quindi che deriva appunto ammoniaca e ione ammonio come dicevano i latini repetita iuvant e quindi formare delle altre sostanze che sono più semplicemente utilizzabili oppure che possono essere portate fuori dal nostro acquario in questo caso perché stiamo parlando di acquari ovvero i primi batteri che entrano in gioco sono i batteri del tipo nitrosomonas sono dei batteri chiamati nitrosatori cosa vuol dire che sono dei batteri che partendo dall'azoto ammoniacale che abbiamo già visto ci produce quello che noi chiamiamo nitrito e che ha la formula NO2 in verità la formula esatta non è proprio NO2 e non è proprio una sostanza fissa perché anche questo è uno ione si chiama ione nitroso in pratica i batteri del tipo del ceppo nitrosomonas che sono appunto dei batteri nitrosatori fanno in modo di portare l'azoto ammoniacale alla forma dell'oione nitroso l'oione nitroso che ha formula NO2 che noi conosciamo meglio sotto il nome di nitrito è ancora un composto tossico non è tossico come l'ammoniaca ma è comunque un composto tossico che crea problemi sia alle piante o ai corali nel caso degli acquari marini e ai pesci e per cui dobbiamo sempre monitorare la concentrazione in acquario a questo punto entra in scena un altro tipo di batterio che fanno parte del ceppo nitrobacter e sono dei batteri nitratatori questi batteri non fanno altro che ridurre lo ione nitroso in ione nitrico quello che noi comunemente chiamiamo nitrato che ha la formula NO3 in verità il ciclo dell'azoto si può chiudere si può chiudere tramite degli altri batteri che si chiamano pseudomonas che però nell'acquario di acqua dolce è estremamente complicato fare funzionare tant'è che nell'acquario di acqua dolce abbiamo un livello di nitratti più alto normalmente e dobbiamo poi procedere con i cambi d'acqua nell'acquario marino invece abbiamo una tipologia di substrato che crea delle zone anossiche e che quindi grazie a questi batteri riesce a portare fuori dall'acquario l'azoto perché a questo punto l'ione nitrico viene ridotto perché noi partiamo dall'NO3 e libera da una parte azoto gassoso e dall'altra parte ossigeno ora cosa possiamo fare con Amtra Clean Procalt è molto semplice con Amtra Clean Procalt noi andiamo a inserire in acquario i batteri del ceppo nitrosomonas e nitrobacter che sono dei batteri vivi e pronti ad aggredire tutte le sostanze che noi abbiamo nel nostro acquario che cosa però si sono inventati in Amtra hanno preso un substrato naturale minerale chiamato MK19 su cui lo potete vedere o meglio non è detto che lo vediate ma vi posso assicurare qui potete vederlo sul fondo vedete il fondo è più scuro se noi lo andiamo a battere diventa più chiaro perché questo fondo minerale serve per tenere tutti i batteri al suo interno perché i batteri sappiamo che vivono soprattutto adesi al substrato e non in colonna d'acqua cioè in colonna d'acqua ci sono ma sono molto minori quindi cosa succede che noi li andiamo a mettere cioè Amtra li ha messi all'interno di questo flaconcino che è da 50 ml tratta 120 litri d'acqua ma ne parliamo dopo quindi noi abbiamo tutti i batteri che sono su questo substrato minerale MK19 questo substrato minerale però non è solo un substrato per i batteri è anche un agente flocculante cosa vuol dire che se noi lo inseriamo in acqua questo prende delle sostanze che magari ci fanno avere l'acqua torbida eccetera le fa flocculare quindi si condensano e poi crollano sul fondo in questo modo riesce a renderci oltre ad averci dato i batteri per il ciclo dell'azoto riesce a farci cristallina l'acqua in poco tempo bene quando si deve usare Amtra Clean Procalt? Amtra Clean Procalt si usa quando si allestisce un nuovo acquario perché fa subito partire il ciclo dell'azoto perché i batteri ci sono cosa manca nell'acquario manca il cibo o meglio dovrebbe mancare il cibo ma se noi l'acquario l'abbiamo allestito ci sono già delle sostanze che sono in decomposizione che i batteri vanno ad aggredire e si moltiplicano diversamente dovremo andare a fornire a questi batteri un cibo per fare in modo che essi si possano poi riprodurre e possano prendere il controllo dell'acquario esistono due confezioni di Amtra Clean Procalt una da 50 ml parliamo di questa ma anche una da 30 ml chiamata nano questa costa 9,99 euro l'altra costa 12,99 euro è più piccola costa di più ma ha un dosatore perché se voi andate a vedere qui non abbiamo dosatori no perfetto quindi cosa cosa dobbiamo fare dovremo avere una pipetta per poterlo gestire però ricordiamoci che questo gestisce 120 litri quindi dipende l'acquario che noi abbiamo che dimensioni ha importante questo prodotto deve essere refrigerato l'abbiamo tolto dal frigo prima perché lo andremo a dosare questa notte io ho un acquario da 400 litri però questa boccetta gliela vado a mettere tutta dentro anche se ovviamente non è sufficiente per però male non fa i batteri sono ottimi il substrato mk 19 ha questa bella caratteristica che io lo agito lui va in sospensione quando lo butto in acquario questo va a finire questo precipita perché è più pesante dell'acqua e si va a infilare in tutti quegli anfratti dove poi i batteri si trovano a potersi staccarsi dal substrato ma andarsi ad attaccare ad altre pareti se non fosse così il rischio è quello che il battere che noi andiamo a mettere in acqua venga nel caso dell'acquario marino venga schiumato e quindi l'abbiamo ucciso nel caso dell'acquario di acqua dolce non riesca a trovare il substrato finisca nel filtro e può darsi che non riesca ad ottenere il suo risultato sicuramente meno rischi nell'acquario di acqua dolce che in quello di acqua marina perché lo schiumatoio ce l'abbiamo soltanto nell'acquario d'acqua marina non nell'acquario d'acqua dolce quindi procedendo in questo modo noi possiamo trovare i nostri batteri che sono uniformemente distribuiti in tutto il nostro acquario perfetto torniamo ai conti dicevamo 9 euro e 99 per 120 litri quindi in base al nostro acquario noi andiamo a comprare quante boccette ci servono ogni quanto lo dobbiamo dosare quando installiamo l'acquario e poi questo dipende dal numero e dal tipo di allestimento che abbiamo meglio abbiamo molti pesci molte piante possiamo fare un trattamento ogni 3 barra 4 settimane come sempre il nostro occhio la fa da padrone abbiamo invece un acquario dove c'è magari abbiamo le piante finte magari non abbiamo molte piante vere magari se abbiamo molti pesci ecco che il trattamento si accorcia come tempi e quindi si potrebbe dosare ogni una barra due settimane in questo modo si rinforza il ciclo dell'azoto e si vanno ad aiutare i batteri già presenti in acquario se ne forniscono dei nuovi per poter abbassare i nutrienti quindi basta controllare nitriti e nitrati se si vede che questi si alzano vuol dire che il numero di batteri che noi abbiamo in acquario non è sufficiente a contrastarli quindi cosa dobbiamo fare dobbiamo aggiungersene altri oppure dobbiamo dare tempo a quelli che ci sono in acquario di potersi riprodurre e quindi di andare in circolo e di aiutare l'acquario stesso quindi il mio consiglio è quello che se noi vediamo ammoniaca o ione ammonio o i nitriti che sono molto alti andiamo ad usare questo prodotto che li va a demolire in maniera piuttosto veloce e poi si formeranno i nitrati che verranno sportati dall'acquario in un modo nell'altro secondo dell'acquario che noi abbiamo quindi questo prodotto ci può servire come parafulmine possiamo tenere un po' in casa nel nostro frigorifero pronti ad essere utilizzati se voi lo avete usato ci piacerebbe saperlo nei commenti se ne volete parlare ci trovate qui trovate i link in descrizione potete metterci i commenti qui su youtube ma potete anche venirci a scrivere su instagram su facebook sul nostro forum forum.danieliff.com di tutti questi social trovate il link in descrizione possiamo quindi parlarne fatemi sapere se l'avete utilizzato come vi siete trovati anche per oggi è tutto vi ringraziamo di essere stati con noi se vi è piaciuto il video vi chiediamo un like a voi costa poco a noi invece fa molto piacere e ci fa capire che siamo sulla retta giusta che i nostri video sono utili per voi se poi vi è piaciuto vi è stato utile pensate che possa essere utile anche a qualcun altro cliccate pure su condividi iscrivetevi ai nostri video così avrete sempre la notifica quando usciranno i nuovi video e a tal proposito mettete anche la campanella così avrete anche una notifica nelle vostre mail o quando venite su youtube per questo noi vi ringraziamo vi auguriamo una buona giornata e ci vediamo al prossimo video l'articolo completo lo trovate su danieliff.com al link che trovate in descrizione e ci vediamo al prossimo video